Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Faremo questa breve conferenza stampa per illustrare qual è la nostra posizione in merito al decreto legge cosiddetto IMU Banca d'Italia, che è costituito da tre parti. La prima parte riguarda l'abolizione della seconda rata dell'IMU, ma in realtà poi impone anche il pagamento della mini-IMU, questo è un altro abuso nei confronti dei cittadini. La seconda parte riguarda la dismissione degli immobili pubblici. La terza parte, quella più corposa, riguarda la riforma della Banca d'Italia, quindi la sua sostanziale privatizzazione della Banca d'Italia. Ora Alessio vi spiegherà anche meglio quali azioni abbiamo messo in campo in maniera preliminare per evitare questo scempio. Salve a tutti. Il problema principale di questo decreto è il solito problema riguardante tutti i decreti, ovvero ci troviamo sempre nelle solite condizioni di disegni completamente eterogenei che mettono in difficoltà le opposizioni. Perché mettono in difficoltà le opposizioni? Perché capite bene l'esempio classico del decreto emergenze, il primo che abbiamo fatto, emergenze ambientali, conteneva finanziamenti, agevolazioni verso i territori colpiti, ma all'interno modificava le Camere di Commercio, modificava tantissimi argomenti, valichi, nuovi lavori autostradali e quant'altro, che poi permettono alla maggioranza di fare comunicazione con l'opinione pubblica dicendo, vi ricordo l'ultimo articolo dell'unità, grillo contro i termotati, dopo che noi ci siamo opposti a quel decreto perché conteneva una marea di porcherie. Siamo nella stessa identica situazione, è un decreto che contiene una riforma completa di Banca d'Italia, un furto completo di Banca d'Italia che spiegheremo poi meglio, è un accordo, un inciucio sotto banco tra il governo e Banca d'Italia. Perché? Perché se andiamo a vedere le coperture finanziarie con le quali vengono coperte le rate dell'Imu, la seconda rata dell'Imu, vi è un aumento di una tassazione a favore degli studi di credito, ma soprattutto vi è un acconto del 128,5% sempre a carico degli studi di credito. Ma attenzione, quindi a voi sembrerà tu mi dai questo, io ti do quest'altro. Ma non è neanche così, perché ricordiamoci che se viene versato un acconto del 128,5%, il prossimo anno avremo un buco di quel 28,5%. Quindi non solo vi è un accordo sotto banco tra banche e governo, ma in più è un accordo devastante per lo Stato, perché è un totale favore fatto alle banche, e principalmente fatto da questa maggioranza, composta da un partito che dice di essere di sinistra come il PD, ma che poi fa favori continui al sistema capitalistico bancario. Andiamo ancora in merito della proposta. Allora, da premettere, all'interno di questo decreto legge, noi siamo assolutissimamente a favore dell'abolizione della seconda rata dell'Imu, d'altronde è nel nostro programma. Ovviamente siamo contro il pagamento della Mimu, altra presa in giro per gli italiani. Tanto più che vedremo poi dopo anche le misure che abbiamo messo in campo per evitare il pagamento di questa Mimu. Abbiamo presentato anche una pregiudiziale, per quanto riguarda l'incostituzionalità di questo decreto legge, poiché è eterogeneo, ma soprattutto mancano le caratteristiche d'urgenza. Soprattutto per quanto riguarda la parte di Banca d'Italia, e ieri in audizione il Ministro Saccomanni non ha saputo dare una spiegazione convincente. Siamo affinché la Banca d'Italia sia pubblica, e la sua pubblicizzazione deve essere stabilita non dal Governo, che ovviamente la vuole privata in questo caso, ma dal Parlamento, quindi dai cittadini. Cercherò di essere breve e chiaro. Voi paghereste mille euro per averne ottomila in cambio? Questo è quello che ha fatto il Governo, perché attualmente sta facendo pagare 900 milioni di euro alle banche, sotto forma di tassazione per giunta agevolata, e comunque anche questi 900 milioni di euro sono tutti da discutere, per regalargliene 7 miliardi e mezzo di ricapitalizzazione. E sapete come? Non bussando alle porte dei soci e facendogli versare capitale, come di solito si fa, bensì spostando questi soldi dalle riserve al capitale, quindi le riserve è il salvadanaio che la Banca d'Italia ha anni dopo anni messi da parte. Ma le riserve sapete di chi sono? Sono vostre. Le riserve sono degli italiani. Sono degli italiani perché sono soldi che la Banca d'Italia ha messo da parte attraverso l'espletamento delle sue funzioni pubbliche in regime di monopolio. Altro problema, lo Stato ci perde, ci perde gettito, perché con questa riforma l'utile di Banca d'Italia viene distribuito, come sapete, in parte tra i soci, in parte finisce a Banca d'Italia stessa, in parte va allo Stato. E quella parte che ci finiva fino a ieri era una grandissima fetta, era una buona fetta, pensate che nel 2012 è stato un miliardo e mezzo. Con questa riforma le banche, i soci di Banca d'Italia possono avere fino a un 6% del nuovo capitale, 7 miliardi e mezzo, che sono 450 milioni, rispetto ai 70 che prendevano fino a ieri. Questo significa che ogni anno lo Stato ci rimetterà fino a 370 milioni di euro, 380 milioni di euro. E secondo voi questo buco, questo mancato gettito per lo Stato, chi lo pagherà? Come al solito, sempre noi. D'altronde, ieri è successa anche un'altra cosa. Il Ministro Saccomani ha ribadito più volte che è stato fatto un criterio per il quale gli azionisti non possono detenere più del 3% delle quote di Banca d'Italia e ci sono stati dei meccanismi per cui queste quote venissero vendute quanto prima. Il Ministro si riferiva al fatto che per le quote oltre il 3% non avevano diritto di voto e né di dividendi. Ebbene, gli abbiamo fatto notare al Ministro che non lo sapeva che non era così. Il decreto non dice questo. Il decreto dice che oltre il 3% non si ha diritto di voto ma i dividendi si riscuotono fino a un massimo di 36 mesi. Quindi questo vuol dire che gli azionisti terranno in pancia le azioni di Banca d'Italia perché fruttano il 6% quindi fino a 450 milioni di euro le terranno per 36 mesi e dopo le venderanno. E il decreto legge dice che questo 6% non è fisso ma è fino a un massimo del 6% benissimo direte voi. Chi stabilisce questa quota del 6% il Consiglio Superiore ma il Consiglio Superiore è eletto dagli stessi soci per cui non sarà il 6% sarà il 5% perché così il 6% sarebbe un po' troppo sporco facciamo il 5% sono 400 milioni di euro ben lontano dai 70 milioni che incassiamo fino ad ora. Ultima cosa poi passo ai miei colleghi c'è un altro aspetto la potenziale perdita di italianità di Banca d'Italia nonostante le misure che sono state introdotte al Senato per cui i soci possono essere diciamo devono avere sede legale amministrativa in Italia il problema è che non si bada al controllo di fatto per cui rischiamo di perdere il controllo italiano in questo caso l'italianità della nostra banca che ripetiamo deve essere la banca degli italiani deve essere una banca pubblica ora passo la parola anche al mio collega che vi illustrerà meglio anche cosa è successo ieri in audizione ma soprattutto oggi in commissione stamattina grazie innanzitutto chiuso questo concetto che non ci è stato spiegato cioè l'urgenza di questo provvedimento precedentemente si ipotizzava che potesse essere legata al fatto che voi come sapete in primavera ci saranno delle azioni di controllo e di verifica della solidità delle banche del sistema bancario di tutti i paesi europei da parte della BCE e quindi siccome noi sappiamo che le banche italiane hanno una grande quantità di titoli di Stato nel loro attivo ovviamente questo potrebbe creare dei problemi perché proprio i tedeschi che sanno di questo nostro punto di debolezza volevano che fosse inserito in parametri di verifica anche questo particolare fattore allora se fosse stato vero ancora vero questo questo fatto poteva essere urgente ricapitalizzare le banche facendo questo favore a loro di restituirgli una ricapitalizzazione sconfinata di queste quote il problema è che questo non è più vero perché la stessa BCE si accorta che c'era questa manovra acrobatica in corso da parte del governo della Banca d'Italia e ha già fatto sapere che ci sarà attraverso delle regole ovviamente un filtro su questo provvedimento per cui non saranno tenuti in conto i capitali che le banche acquisiranno attraverso questo particolare provvedimento quindi anche questo motivo di urgenza è completamente decaduto da un punto di vista della nostra proposta prima di raccontarvi poi come cosa c'è stato risposto ripasso la parola a Villarosa che ci spiegherà qual è stata la posizione del Movimento 5 Stelle che è stata costruzionista e non ostruzionista sì questo anche per spiegare per evitare che ci siano fraintendimenti perché purtroppo capita capita noi attualmente abbiamo deciso proprio perché non riusciamo a capire vi ripeto l'urgenza di questo provvedimento oggi stesso ci hanno detto che colpa ne abbiamo noi se il Senato si è detenuto un mese e mezzo è colpa nostra ma quando l'avete scritto andiamo a vedere in che data l'avete scritto non sapevate che c'era una legge di stabilità in mezzo non sapevate che c'erano le vacanze di Natale di Capodanno in mezzo che cosa ci aspettavamo che poi la Camera avrebbe avuto il tempo di analizzarlo con calma se vogliamo continuare a prenderci in giro in questo modo lo possiamo anche fare oppure modificare come mi ricordava il mio collega Pesco modificare lo statuto di Banca d'Italia il 23 dicembre così come quando hanno introdotto la nuova regola di bilancio l'anno scorso hanno fatto l'anno sempre fatto in periodo in cui l'attenzione della gente verso la politica è molto bassa insomma a questi giochetti noi non ci stiamo più quello che noi abbiamo chiesto è di affrontare il tema Banca d'Italia perché sono sicuro che i cittadini vogliono che il tema di Banca d'Italia venga affrontato con attenzione e cura e venga affrontato da chi ha l'autorizzazione e il diritto di farlo e non lo dico io ma lo dice la Costituzione ed è il Parlamento che ha la potestà legislativa il governo ha la potestà esecutiva come vi dicevamo prima come ha spiegato bene Sebastiano e altri il decreto legge non può affrontare temi che non hanno necessità e urgenza e non smetterò mai di ripeterlo perché questa storia deve finire quindi cosa abbiamo fatto abbiamo presentato due emendamenti e nessuno ci può accusare di ostruzionismo noi abbiamo presentato due emendamenti il primo che abroga il titolo secondo che riguarda Banca d'Italia promettendo alla Commissione e a tutti che se avessimo affrontato che se inizieremo ad affrontare il tema Banca d'Italia lo affronteremo in maniera celere ma lo affronteremo in Commissione luogo nel quale ci sono delle telecamere ci sono dei resoconti stenografici c'è un ITER che i cittadini tutti possono seguire e poi abbiamo presentato un altro emendamento perché questo governo ricordatevi e a noi sembra uno strumento di distrazione di massa non riesce a trovare 400 milioni per la Minimu e quindi giornalmente giornalmente tutti i giornali sono concentrati sulle modifiche alla Minimu e si paga il 40% e scade il 16 scade il 24 gennaio ogni giorno c'è un articolo sulla Minimu non c'è un articolo su Banca d'Italia non se ne parla la riforma più pericolosa del nostro sistema bancario nessuno ne parla perché? perché siamo tutti concentrati sulla Minimu noi abbiamo presentato il secondo emendamento che trova la copertura totale totale nella Minimu applicando una tassazione alle concessionarie dei giochi d'azzardo un emendamento molto caro anche al PD che però al Senato non lo ha presentato questa è la coerenza di questi partiti quindi che nessuno venga a dire che il movimento 5 Stelle è contro l'Imu esatto esatto ora vi risponderà quali sono state le soluzioni geniali di Causi stamattina in commissione finanze le sue proposte geniali secondo lui per il movimento 5 Stelle voi ovviamente immagino che sappiate che un iter legislativo si fa su un procedimento sul procedimento c'è il governo c'è il relatore di maggioranza poi eventualmente di minoranza e in commissione si discute di questo provvedimento in sostanza la proposta quindi nostra rimane sul provvedimento e dice togliamo la parte che riguarda Banca Italia facciamo concludere rapidamente il provvedimento in corso in modo che gli italiani vedano l'abolizione della rata Imu sebbene non completamente dopodiché ci occupiamo con dei procedimenti rapidissimi che si possono concludere anche in un paio di mesi tra entrambe le camere di Banca d'Italia ma la discutiamo nei termini e nei modi più consoni la risposta è stata semplicemente una promessa cioè vorrebbero che l'attività legislativa si basasse su delle promesse tra le parti in cui una parte tra l'altro vacilla di giorno in giorno per cui non è neanche affidabile come interlocutore c'è un conflitto di interessi persino nella commissione dove ci abbiamo relatore capogruppo del PD e sostanzialmente anche rappresentante del governo perché ne fa le veci contemporaneamente in commissione e la risposta è voi diteci cosa vorreste modificare di questo provvedimento che non vi piace lo discutiamo fuori dalla porta con il governo che viene fuori dalla porta con dei suoi rappresentanti a discuterne con noi e laddove siamo d'accordo vi promettiamo di inserire queste modifiche in un successivo provvedimento noi abbiamo pensato forse per il primo di aprile ce lo inseriranno in occasione della famosa festa del pesce d'aprile per cui sostanzialmente noi abbiamo detto non ci interessa questo non è modo di fare legislazione questo non è modo di rispettare le prerogative del Parlamento e non è neanche il modo di rispettare un'istituzione che sebbene non costituzionale come la Banca d'Italia non è del governo non è del partito di maggioranza e andrebbe trattata e modificata attraverso un procedimento di legislativo che vede come minimo la partecipazione di tutte le parti parlamentari ora questa cosa passerà sicuramente in secondo piano dato problematiche che riguardano aspetti molto importanti ma che sono strumentalmente messi insieme quindi l'Imo ad esempio e quindi noi siamo qui per comunicarlo e lo faremo anche nei prossimi giorni quando il provvedimento arriverà in aula ora questo decreto è immodificabile per quanto riguarda la Banca d'Italia se non in un modo abolire come abbiamo detto tutto il titolo secondo abbiamo lanciato diciamo questa proposta ora la palla sta nel loro campo il PD la maggioranza ha la palla nel suo campo adesso loro devono mettersi davanti la responsabilità decideranno tra tre quattro anni quando si spiegheranno gli effetti di questa scelerata riforma decideranno i cittadini loro saranno messi davanti alla responsabilità dei cittadini noi faremo di tutto per bloccare questo scempio abbiamo anche preparato delle azioni eclatanti che metteremo in campo affinché la Banca d'Italia sia la banca degli italiani pubblica a voi perché domanda grazie io volevo capire se sull'emendamento che era quello dell'Ance Emilia Romagna del sindaco di Ravenna che avete fatto vostro tra l'altro era del PD quindi il PD che ha detto cosa farà qui cosa farà qui non lo so ma quello che ha detto al Senato è che avrebbe presentato questo emendamento e poi non l'ha presentato quindi secondo me farà esattamente quello che ha fatto al Senato come al solito anche in questo campo in questa materia specifica anche su una cosa così piccola il PD è spaccato è spaccato perché noi abbiamo parlato con alcuni esponenti alla Camera che stanno cercando di convincere gli altri esponenti sempre del PD della bontà di questa cosa fatta in un certo modo ovviamente e quindi sostanzialmente noi non possiamo sapere una cosa che non sanno ancora neanche loro per cui aspettiamo le reazioni del capogruppo quando ci sarà il momento di valutare l'emendamento che comunque è stato presentato Sì con noi guarda sono emendamenti tu sai bene come funzionano spesso le associazioni di categoria per esempio l'Anci in questo caso inviano degli emendamenti che secondo loro sono validi a tutte le forze politiche naturalmente come abbiamo sempre detto essendo coerenti quando c'è un emendamento c'è una modifica una proposta che ci piace che è valida per tutti i cittadini a noi non interessa chi la presenta la portiamo avanti e la facciamo nostra quindi questa non ci sono stati contatti accordi e nient'altro sono emendamenti di buon senso che vanno portati avanti in tutti i modi solo che noi lo diciamo e lo facciamo altri lo dicono e poi però non lo fanno io volevo sapere qualcosa di sulle iniziative che metterete in campo se ci anticipate qualcosa diciamo che nei prossimi giorni potrete avere molto materiale da scrivere no non c'è la sorpresa vi teniamo un po' sulle spine dai no io volevo sapere visto che questi temi mi sembra che siano tra quelli che più interessano su cui più è attivo casaleggio che è stato pochi giorni fa qui a Roma incontrato i parlamentari avete discusso di questa cosa con lui anche magari brevemente e qual è la sua opinione no Pietro non abbiamo avuto possibilità di discutere perché eravamo straimpegnati in commissione e in aula perché tra Banca d'Italia come commissione finanze abbiamo il decreto destinazione d'Italia e abbiamo la direttiva 2011 61 il problema infatti ieri sono passato giù stavo facendo un giro e mi hanno fermato i giornalisti chiedendovi se avevo incontrato la saleggio ma non abbiamo assolutamente avuto il tempo di incontrarlo ma poi nel nostro blog il tema Banca d'Italia banca sistema bancario è discusso da una vita è strapieno ecco un'altra cosa magari non la sapete quando mi pare tra novembre e dicembre si parlava di questo provvedimento per la copertura dell'allora i mutasi insomma a seconda delle diverse fasi la contrarietà più forte veniva proprio dal ministro Saccomanni di cui si scriveva ex Banca Italia sempre contrario a questo provvedimento lo stesso Visco all'epoca da quello che mi ricordo non era diciamo molto convinto di questo visto che avete detto che avete avuto insomma dei contatti con con il governo con le forze della maggioranza avete capito perché poi c'è questa inversione di rotta è stata dovuta alla necessità di non poter fare altrimenti vi hanno spiegato in qualche modo allora il ministro Saccomanni negli ultimi nove mesi in questi nove mesi di governo non ha brillato diciamo per coerenza e per diciamo incisività della popolazione ricordiamoci che lui ha proposto una direttiva per sostituire i manager in carica con delle persone scelte la società di Ed Hunting è una cosa meritevole perché doveva essere scelto secondo dei criteri di meritocrazia però non è mai stata presa in considerazione tanto più che ci sono ancora le vecchie persone era contrario all'abolizione su prima erata del Limo tanto più che ha fatto diverse proposte per modificarla tutte quante bocciate e poi l'ha dovuta abolire lo stesso non voleva aumentare l'IVA però poi come sappiamo l'IVA è stata aumentata era contrario anche all'abolizione della seconda erata del Limo perché diceva che mancava la copertura e poi miracolosamente la copertura è spuntata fuori ed è stata tolta la data del Limo ha scritto la legge di stabilità che l'Unione Europea ci ha diciamo tirato le orecchie e ha fatto leva su privatizzazione e spending review di cui ancora è soltanto scritto sulla carta con gli ultimi provvedimenti si è creato il pasticcio sull'Imu scusate sulla Minimu in questo caso vedete adesso il provvedimento il pagamento della IUC ex-Trise ex-Imu ex-ICI e posso continuare per dieci nomi negli ultimi vent'anni adesso è diventata una giungla perché non si sa più chi paga quanto paga dove paga come paga quando paga è diventata una giungla si è creato anche il pasticcio sui famosi 150 euro e gli insegnanti che insomma sapete più di me e su questo decreto anche oggi come ha detto i miei colleghi anche il PD nutre molti mal di pancia io mi chiedo e chiedo a questo punto anche al Ministro se si sente ancora legittimato nel suo ruolo se pensa che l'Italia possa avere un Ministro dell'Economia delegittimato dovrebbe essere anzi al contrario una persona ferma autorevole diciamo appunto autorevole e autoritaria in questo caso e non mi sembra visto questa lunga sfilza di cose che vi ho detto che sembra che sia tale quindi facesse in questo caso secondo me io fossi lui farei qualche riflessione riguardo al suo andato come è che mi pare andate via a vedere l'audizione di ieri vedete quant'era in difficoltà quando gli abbiamo chiesto il periodo transitorio dei 36 mesi ma chi l'ha scritto questo decreto vi consiglio veramente andare a vedere l'audizione nel momento in cui no ma è così no no si può è tutta la commissione non solo noi ma che dici erano 24 sono 36 mesi ma di cosa stiamo parlando cioè non sapeva una cosa così importante di un suo decreto non sapeva che bisognava inviare la comunicazione all'Europa in tempo utile perché l'Europa potesse valutare questo tipo di operazione l'Europa ci ha detto se non la mandate in tempo utile è come se non ce la chiedete è come se non ce l'avete inviata cioè c'è un'incapacità stiamo notando un'incapacità tale da soprattutto in questo decreto da questo ministro che è incredibile incredibile errori da veramente da elementari dove infatti ho proprio l'interesse di riguardarmi per bene tutta l'audizione di ieri perché oltre a questa ne ha fatte nante di gaffi ieri scusate ho l'ultima avete avuto invece dei contatti con i sindacati interni alla Banca d'Italia con dirigenti cioè ne avete discusso in qualche modo con appunto con chi lavora in Banca Italia a più livelli No non abbiamo discusso con i sindacati interni perché chi conosce Banca d'Italia conosce bene gli aspetti di Banca d'Italia sa che c'è poco da discutere con i sindacati interni cioè il tema che stiamo trattando tratta solo ed esclusivamente la rivalutazione delle quote il sistema di vigilanza quindi sono cose che sia Sebastiano che io ovunque tutti i colleghi della commissione conosciamo conosciamo abbastanza bene abbiamo già visto quali sono le pieghe che non vanno che non vanno in questo in questo decreto abbiamo sentito tanta gente che lavora nel settore bancario e ricordiamoci che Banca d'Italia vigila sul settore bancario quindi abbiamo abbiamo veramente molte molte informazioni per analizzare questo decreto che è